I primi nomi che li vengono in mente sono quelli di Don Giorgio Rossi e Don Paolo Iafolla, per citare poi tutti i salesiani che si sono avvicendati all'interno dell'oratorio e dei laici che sono riusciti a essere braccio lungo dei salesiani in città, a raccontare la sua storia ai nostri microfoni e l'indomani della notizia lanciata da Onda Tg riguardo la decisione sofferta della circoscrizione centrale dei salesiani di lasciare Sulmona e il giovane Francesco Amori che nell'oratorio di Cristo Re ha vissuto i migliori anni della sua vita e entrato nel 1991 come animato e fruitore per arrivare all'età di 32 anni come salesiano cooperatore. La storia di Francesco è quella di tanti giovani di Sulmona che sono cresciuti nella struttura retrostante della chiesa di Cristo Re a cantare con il coro o a sbucciarsi il ginocchio nella partita di calcetto. C'è chi ha partecipato ai tornei di basket, chi ha frequentato la Gesci, il campo sportivo del Grest, ma come dimenticare numerosi progetti dedicati al recupero dei giovani, alla formazione, alle iniziative per le famiglie, le persone in difficoltà, guai a mancare, i pomeriggi in oratorio, si urlava, si vinceva e perdeva, si cadeva per terra, ci si rialzava, si costruivano relazioni ora solo virtuali nell'era digitale, poi arrivava il momento della preghiera, tutti fermi e composti. Francesco racconta che l'oratorio le ha cambiato la vita. Io personalmente ho iniziato la mia esperienza da animato per poi passare dall'altra parte della barricata come animatore, poi sentendo la mia camionata a diventare un salesiano laico, un salesiano cooperatore. Come me tanti poi hanno preso il via non solo nell'ambiente salesiano, ma anche in quello ecclesiastico in generale e in generale anche al servizio della società in cui viviamo. Io credo appunto che siano state esperienze decisamente indelebili e che ancora sono destinate a dar frutto grazie ai tanti che si sono impegnati e che si impegneranno per continuare ad apportare del bene alla nostra città. Così interviene Francesco che lancia un appello a tutti i sulmonesi. C'è un'agenzia educativa e culturale cittadina che rischia di venire a mancare e se mai questa proposta educativa effettivamente dovesse volgere al termine sarebbe un bel danno per la cittadinanza. Quindi diciamo che tutti noi sulmonesi siamo chiamati a ripensare e a ripensarci per poter essere utili tra virgolette all'educazione dei nostri giovani. Amori fa riferimento soprattutto ai tanti modelli che si sono venuti a creare in Italia di gestione laica dell'oratorio. Da qui ad agosto si dovrà pensare quindi alla fase 2 a dare una continuità all'identità tracciata alle salesiani che in 40 anni di gestione di parrocchio e oratorio sono riusciti a tirare lo sguardo anche di increduli e curiosi perché prima di tutto e di tutti bisogna essere umani soprattutto in chiesa ed ora la palla passa nelle mani della diocesi a riconsegnare le chiavi la prossima estate sarà Don Giovanni Molinari ultimo direttore dell'Opera Salesiana una decisione sofferta ancora di più per le intere generazioni che sono cresciute nell'oratorio e che hanno partecipato ai campi estivi con circa 150 bambini e 30 giovani volontari ogni estate.